Ciao a tutti ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Pokémon Platino Allora, siamo finalmente arrivati a Rupepoli E oggi direi che andiamo finalmente nel centro commerciale Però mi levo un attimo questi perché la musica mi ha già rotto il cazzo Poi mi rimbombo, poi vabbè mi rimetterò E perfetto, dunque adesso siamo a Rupepoli Non mi ricordo esattamente dov'è il centro commerciale Non lo so onestamente Potrebbe essere qua, no qua c'è la roba del Team Galassia, ok poi ci andiamo dopo E chiaramente andremo anche a battere il capopalestra Direi che però la nostra priorità, credo sia questo il centro commerciale La nostra priorità è il centro commerciale perché qua troveremo tante MT che ci servono E almeno io ho trovato così, cazzo ora vedete un flash è praticamente la roba dell'MT Devo disabilitare le animazioni di Win, vabbè Fa niente Avevo detto che li avrei rimessi e ora li rimetto Ok allora, vediamo qua cosa vendono No basta Mi sono già rotto il cazzo Allora qua vendono un po' di roba Io quante fumi di fuga ho? 3 Va bene così Super repellente quanti ce ne ho? 10 va benissimo Così Messaggio erba No ok Eh no Scusate Stavo ridendo perché Ok Uh le iperpozioni ci possono essere utili in futuro Però io direi che io aspetterei Per Aspetterei per Cos'è che vuoi? Mask Che cazzo? La maschera Aspetterei a comprare roba perché io voglio Che Mi vendano Eh Le MT E quindi praticamente Sì dammelo però Ok Però a me serve Wow cazzo Mi serve un MT Il punto è che le MT Costano Perciò io direi di risparmiare Posso rimettere Non so se rimettere la musica o no Perché praticamente la musica è velocizzata Per Perché ho Fatto gli FPS Non lo so Se quella roba degli FPS 4.000 Vabbè la metto solo nel destro Sì sono nel destro E Cosa cazzo? Questo dà consigli Cioè neanche Dà consigli Perché sì Ci si diverte a dare consigli Visto anche che Volete le incazzature Ho visto l'ultimo commento del video Di Pokémon Le incazzature Le vorrei Ecco ecco qua Ok qua Incominciamo con le MT Dunque non dovrebbe servirmi Questa roba qua Anche perché Sono MT abbastanza Sono quelle strane Mosse strane Però Ecco ecco Già si entra in un tono Decisamente superiore Perché per esempio Io tuono E Bora Scusate Ma io me le prenderei Andiamo a controllare Perché io tuono Ce l'ho per Pacerisu E me lo dai Uno Va benissimo E Bora Ce l'ho per Scusate Stavo un attimo Modifica Ce l'ho per Il mio Gastrodon Cioè Il mio Futuro Gastrodon Perché ho ancora Nocellos Non dovrei Avere altro Adesso Toglio un po' di Perché Ok Dunque No Non qua Vediamo dov'è Dov'è No Ecco qua Ecco si si Questa qua per Torterra Cioè per il mio Futuro Torterra Che è solo a raggio Che però Ha tipo il Vabbè Chi se ne frega Perfetto Questo è Quello che ho preso Non dovrebbe Esserci Altro Se non Che potrei vendere Ma questo qua Mi compra solo Le MT Oppure mi compra tutto Ah no Mi compra tutto Beh Sono stati bravi Il mio no Però ci sono quelle robate Che non mi servono Tipo questo Cioè Cazzo Ne frega Eh La stra timore Onestamente Vabbè Non lo tengo ancora Ok Eh Adesso Teoricamente L'unica cosa Che dovrei fare È Andare E insegnarle Cazzo Mi ricordavo Che c'era più Più roba Che Perché Questa 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 Sì Non c'è più un cazzo Perfetto Eh Questo dovrebbe essere Che mi serve Però non è qua Ok Adesso insegniamo le mosse Giustamente Oh finalmente Non sto cazzeggiando Dunque Allora Cosa ho preso Ho preso Bora Che spero che Shellos possa imparare Oppure Devo farlo evolvere In gastro Vediamo Vediamo Dove sono le MT Qua Allora Bora Sicuramente per 120 di Di cosa Che scelto sia capace Meno male Aush Cosa Cosa Gli facciamo dimenticare Introforza Introforza Gli affari Dimenticare Scusa Me ne frega Ok Tuono Che è la stessa Roba di Bora Ma In In fulmine Sì Tuono È molto potente Però Non è molto precisa Ho appena imparato Uno da shock Però Attacco rapido Cazzo Me ne frega Abbiamo tutte le mosse Con lo stub E poi Solo a raggio Per torterra Cioè per Vabbè Grotto Insomma Cosa E Lo Lo so che non puoi imparare Solo a raggio Ah là ci sono i Beatles Sono Abbey Road George Poi c'è Paul Poi c'è Ringo E John Che però non si chiedono Perché Sono coperto Solo a raggio Puoi imparare anche Bronzor Sì 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 Che cazzo mi serve Che cazzo mi serve Che cazzo mi serve Che cazzo mi serve Pure 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 beautyfly Che puoi imparare Vabbè Quello ci mi dico da sta Oddio Che cazzo tolgo Allora io Gli ho Prenotato giga assorbimento Ovviamente Questo è ovvio No scusa No scusa ho cannato Tor terra Che palle No fogliata non mi serve Assorbimento Tanto poi Tra poco ci prendiamo Mega assorbimento E giga assorbimento Però non ho mai controllato Dove è Mega assorbimento Vabbè Penso che potremmo fare Anche a meno Ok Direi che la nostra avventura C'è finita Adesso non so se andare Alla sedia delle galassie O alla palestra Io andrei Alla palestra Se non avete niente Il contrario Che faccio ho fatto Rega Mamma mia Vado a farmi curare i pokemon Che se no mi serve Perché è giusto Perché si C'è anche la Truppe di GiubiloTV Che Sempre presente Questo cazzo di moscherino Moscherino Oh Si sente anche con i cani Perfetto Devo farla Tutto su di io No Ok Basta Scusate Dove è la palestra Ma io ho il microfono attivo Si Intanto controllo sempre Non ci credo Oh no cazzo Adesso sarà un bordello Con L'editing Perché Cioè Facendo page Su e page giù Si può invertire Con page giù Scusate Voi lo vedrete sotto E di qua Cioè Però vabbè Io lo vedo chiaramente Uno su uno giù Intanto andiamo a prendere sto Ah no Se pesca la roccia Niente Scherzavo Ecco però c'è la palestra Comunque da Allora Vediamo No Se arriva da l'altra parte Che palle Dove è Dove è Dove è qua Tu 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 Qua c'è il casino Poi ci andiamo anche a quello Cosa c'è qua Uno strumento Probabilmente Vediamo se c'è uno strumento Io ho il cristo di Di ricerca strumenti Me lo dimentico sempre Dove è che Qua No Si Proprio No Cazzo Eh C'è un cazzo C'è un cazzo Una sega Proprio niente Teniamo Teniamo la mappa Tanto Va bene Non penso che venne fotta qualcosa dell'ora Oh cazzo No Questa Ah Scassa cazzo Si 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 Uggiro Massimo Bossetti è arrivato Omar il distruttore Ma è qua Omar Non è Omar non è di questa palestra Non è Esatto Di Pratopoli Ma va Ci incontriamo ancora Grazie Si Potete andare Fuori da Quelle Oh Dai che devo sfidare Qualche palestra 10 minuti Allora Qua c'è un ammasso di Gomme Perché le gomme Cosa cazzo Si Si metto a cambiare le gomme Le macchine Fanno i pit stop della Ferrari Che cazzo è qua Dove che si va Ah già è vero Bisogna fare tipo qualcosa con questi Si Si Esatto Ah che figata Ecco cosa servono i gomme Ok andiamo a sfidare sto qua Ah Dunque io direi che il bronzer È il mio Principale adesso Perché non mi ricordo bene Come Beautifly si relaziona con i cosi Graffica Dovrebbe essere super efficace Esatto Esatto Si anche Beautifly ci può Ci può stare Sono loro due praticamente Che mi devo tenere sulla baracca Ok Mega assorbimento Buono Mega assorbimento è buono Si si Voglio che scordo di una mossa Ora in questo momento Assorbimento Quindi la Gli faccio imparare A mega assorbimento Che ovviamente è un upgrade Fa Prende 40 Teniamo sempre lui No lei Scusate E Si Grazie Dopo che mi ha identificato Wow Colpo basso è davvero una mossa Estremamente utile contro un pokemon di tipo Volante Sempre Machok Lui Sempre Sempre Machok Perché si Prendiamo tre Machok Perché Cosa vai a fare da grande Vado a prendere tre Machok Ma non puoi drogarti come tutti gli altri Scusate Ok Perfetto Arrg che ti sdetta Potrebbe servire qualcosa altro nel poker qua No Cazzo La squadra Teniamo la squadra No No Perché veramente Non so che cazzo Può servirmi Cioè Ti devi dal cazzo Ok Devo andare a sfidare questo Direi che poi lo Cambiamo anche con bronzor Perché Si Machop Wow Molto avvincenti queste lotte Devo dire Meditate Oh cazzo Meditate Ma ma No che cazzo Ma scusa Ma meditate Tipo psicolotta Dovrebbe comunque essere Vulnerabile La raffica Esatto Ok 487 Machok Continuamente Machok Detto che lo cambiavo con coso Mi sono dimenticato Vabbè Lo cambieremo al prossimo Ok Accetto il fatto che mi denti Mi fa male la testa Con la luce Che mi viene Si perché mi sono puntato La luce del contro Per Inquadrare me Nella mia faccia Da culo Levati la car Madonna car Non si scosta Adesso mettiamo bronzo Che è uno strumento Non ho contato Se lo strumento Potevo Potevo prendere Vabbè Siamo in quattro assi Lucchi Cristo Lucchino No Come Come Krogank Perché Krogank Vabbè Comunque Non è efficace Il veleno Su Si però Cristo Santo Un confuso Che usa Confusione Proprio Wow Su Uca Su Uca Brutto Colpo Cazzo Utile Perché Gli ho Fatto Ah perché Il psico Su Veleno È anche Super Efficace Vediamo se Con Un'ipnosi Non fallire Per favore Madonna Ecco Ti pareva Perché mi ha Perché forse L'otta su acce È super Efficace Shit Quindi Si annulla Niente Niente Crobat Dentro Dai Perché quando Non si fa cosa fare Crobat Che comunque Lui è Anche lui Volante Perciò Si Mi hanno scordato Che era anche Crobat Volante Quindi Direi che Sta palestra Non abbiamo Non abbiamo problemi Sì ma A me sembra Di stare Saltando Un casino Di Persone Ma in realtà No Perché Ci sono tre Credo che Devo mandare Questo robot Basta Non è semplice Controllare Con una cazzo Di tastiera Del computer Gesù Cristo È impossibile Perché Ti No Ne manca un altro Non possono essere Solo tre Ma hai detto che siamo Quattro assi Del 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 Karate La Cristo Mi sta Non mi Poppa il cervello Eccolo L'altro Poi chiaramente Andiamo a curarci E affrontiamo La coppa Da est Ah ma Dicono tutti La stessa cosa Che non ho molto Seguito Perché ho corto Come primo Che cazzo Vabbè Prima sto solo al raggio Che adesso tipo Accumono Energia E poi però La sprigiono Pum Ah no è vero Un cazzo è Codeottero No sono un pirla Scusate Eeeh Shellos Un shellos che Ancora facciamo cagate Cos'è sto il mio sguardo Perché la smetti Bora Prendiamo Bora Bora dovrebbe essere Superefficace Merda Dove essere superefficace Perché il ghiaccio Su Codeottero Non è vero niente Stavo scherzo Cazzo è Ok Ehm Ok Basta Oh Eh che cazzo Mega strumento utile Perché comunque Cioè Tantosi Vabbè Ok Adesso andiamo a Curarci i pokemon E andiamo anche a Takeshi Takeshi Scasso Chi è che lo vedeva Takeshi Scasso Da piccoli Quando era Quanto era bello A parte tipo Il gioco finale Dove non si capiva Un cazzo Ma ok Cioè In realtà si capiva Se era tipo La versione Quella con Le pistole D'acqua Cristo Sti cazzo Di pali Dov'è che si esce Da qua Non si esce Appena più un cazzo Poi cos'è che sono Ste cose Vabbè Se era la versione Con i pali Quelle I pali Sì E Le Cosi d'acqua Tipo Gesù Cristo Mi sto incazzando Mentre la versione Quella laser Non si capiva Un cazzo Ok Di qua Sì Di qua Di qua Madonna Mi sto Mi sto alterando Sta palestra Perché non capisco Dove cazzo Sono le cose Le proporzioni Sono sfasate Non posso Ah ok Posso Ah posso Salire anche così Le scale Lo scopro adesso Ho 16 anni Che Cioè Non devo andarci davanti Ma posso anche Così Scopriamo Le cose Adesso Va bene Non ho mai Cioè Gesù Cristo Sì ma comunque Sono bloccato Cioè Quindi io posso Oltrepassare questo Ok E insomma Che bello Scoprire le cose Che per altri Sembravano tipo Banali Io Scoperto adesso Dov'è il centro Pokemon No Non voglio Andarmi a scontrare Con voi brutti Ceffi Dov'è il centro Pokemon Devo andarmi a curare I Pokemon Che devo Cazzo Devo aprire Il culo La palestra No è Cioè Non c'è Sessismo Inteso Proprio Figurato Giuro Che cazzo ho fatto No Cosa ho fatto Ho fatto Sevi stessi Non lo so Ho paura di No raga Non dimmi che ho Ho ricaricato No Non è possibile Non posso aver ricaricato Il salvataggio Perché Non era al primo posto Bronto No niente Ok Mi sono spentato un secondo E ho detto Che cazzo ho fatto Non so cosa Veramente Cosa abbia fatto Scusa C'è una prova del 9 Grotola Info Sì adesso ho da raggio Quindi devo dire che Non ho ricaricato un cazzo Non male Avevo dovuto rifare Tutto quello che ho fatto In sto 20 minuti D'episodio Oh 20 minuti precisi Cioè Adesso ne va Alla capodestra Andrà su 22 Minuti Però No madonna Mi sono dimenticato ancora Dove si va Hanno Hanno proprio Cambiato il coso Cioè L'hanno rimesso Come L'hanno rimesso E dai Allora Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua No Non fare Non fare che Se sbagliavo A cliccare Stava lì per Ecco Tipo adesso Per 3 secondi Immobile Ho capito che Ah non ci credo Veramente Devo fare Sta cosa Cioè quindi adesso Io dovrei Stai Stai fottutamente Scherzando Vero Che figata Che posso fare Sta robin Non lo sapevo Stai scherzando Vero Cioè Voglio No Anche che non No Regà Ma sono Scarsissimo Ma si può No Regà Sono Sono una frana Fare queste cose I bambini Di 4 anni Le riescono a fare No Non lo so fare Sta cosa Com'è che si Si muove qua Ma questo va avanti Perché non posso andare Di là Madonna Cara Com'è che si fa Andare di qua Devo spaccare Qui di là Ma Come Arrivando No regà È un bordello Una cosa che mi viene in mente È fare così Così andiamo Con un'altra stazione Tipo Spacchiamo quelli E poi E poi Un cazzo Non abbiamo risolto niente No raga Io mi incasino A fare queste cose Cioè Io Però ho visto Che si può muovere Ancora di una fermata Quindi magari Ma ci siamo sto cosa Come sono Ti coglioni E ora che cazzo Devo fare Cioè devo veramente Andare di qua A fare tutto Sto bordello Sì perché poi Devo andare tipo Di là No devo Girare attorno qua Al coso Sti cazzo Di giochi di logica Sono una frana Di merda Dai basta Staccarti là Ok Adesso Devo tornare indietro Un cazzo Di sta grafica Qua madonna Com'è che faccio Andare di là Com'è che faccio Andare di là Ok devo Oh shit Ma sei serio? Gesù Cristo Non ci capisco niente Com'è che faccio Arrivata Meno mai che ho detto 22 e 30 Sono 22 e 41 E non riesco Ancora Madonna Cioè ma veramente Sto video Devo farlo venire Sovradimensionato Perché Sono ritardato E va bene Avrete il vostro episodio Di pokemon Di 30 minuti Non me ne faremo Un cazzo Devo Devo finire qua Su Oh le Adesso vado di qua Madonna 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 Ragazzi Mi blocco Madonna Cara C'è anche una cazzo Di tanzara Che continua a girare qua Ok Adesso corro E E Oh Vai Eccolo lì Olè Non ci credo Devo Quanto devi essere Crudeli Per fare una roba Del genere Oh Non ci credo L'ho fatto Levati dai Un cazzo Proprio Oh Ciao Ah Madonna Marzia Cutie pie Marzia Cosa Non so come ho fatto Vabbè Se lo sai tu Raccomandata E Sistema italiano Qua Va bene Quanti anni ha 12 Ok Allora Usiamo di cocco Al 28 C'è la porca troia No Come tenete Madonna Sei Sei un pieno di merda No cazzo Questo Che cosa ho fatto Esci No Allora Meditate Allora Senti Io Me la gioco pesante Non me ne frego Un cazzo Metto dentro il crobat E adesso Sono cazzi i tuoi Coglione Attacco Attacco d'ala Via Crobat Sale Ha il rasoio Bello il rasoio Bella mossa Bella mossa Direi che Gli facciamo togliere Attacco d'ala Quanto è che toglie No 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 Non bloccare il rasoio Voglio che scordi La mossa E voglio che dimentichi Attacco d'ala Ma io voglio vedere Quanto toglie il rasoio Ah cioè Non è che tanto Ah Ah Cazzo E' anche peggiore Però non so se Ah non so se Crobat ha più Attacco fisico speciale Devo andare Nell'info di Crobat Ma non lo so Che palle Davvero devo fare Una ricerca adesso Alle Sì Ok Tanto vabbè comunque Aveva anche Meno precisione Fa niente Tanto alla fine Non è che Cioè Nessuna delle due Starà nel mio robo finale Cazzo però C'è proprio C'è tomba Adesso comunque Sarebbe stato Puglio del rasoio Perché non hanno più difesa Questi qua Che difesa speciale Però Lucario Tipo Cos'è cazzo era Lucario Non lo so Guglio Non lo so Vabbè comunque Ah è l'ultimo Minchia 32 però Cazzo Ok Capisco perché è l'ultimo Vediamo comunque Non mi assorbimi Scusa Stavo cercando di Testare Cristo Dio Oh merda Questo è forte Ok Perfetto Siamo fattuti Questo ora ci Aperà il culo Allora Facciamo usare il tuono Vai Boom Bestia Tuono ancora Paralizzato Esatto Ok Però Facilito Hai svuoto Bene il tuo lavoro Shellos Shellos L'abbiamo cagato poco Oggi Ora Così Non è molto efficace Che cazzo Oh shit Non curarlo Pezzo di merda Osso Raffica Che cazzo Di mossa Ok Andiamo in campo Brozzor Per proprio Che non mi appogano più scarso In questo momento Per proprio con confusione Ok Palma forza Ok Robot Trespo Ok Almeno mi curo un po' Suka Suka Bella mossa Morso Non è molto efficace È vero e buio Cazzo Sono pirla Attacco da là Ok Va Fatta Ok L'ho sfangata Meno male Meno male Meno male Ok Dammi una medaglia Che Che Ho Incierto il cazzo Medaglia Cotto Cotto Va bene No Non si Ok La mossa Meno Mi serve Sì Cos'è Assorbi pugno Assorbi pugno Quanto è che toglie Tanto ormai Stiamo andati oltre Sono 27 minuti Quanto è che toglie Assorbi pugno Sessanta Però assorbe E di tipo Lotta Ok Nessuno è capace Niente Come se non Non fosse successo niente Ok Direi che abbiamo finito qua Adesso Andiamo giusto a curarci Pogno Ok E' bello Vedere i proprio pokemon Curati E Ho ancora C'è questa qui Cosa vuole No Non te la do la mano Eh ma Ma va a cazzo Vabbè Direi che nel prossimo episodio Sappiamo cosa fare Andremo tutti in galassia Ora Teoricamente io la dovrei incontrare qua Perché sono più veloce di lei Con la bicicletta Vabbè Scusate Piccoli Ok Curiamoci sti amiche di pokemon E finiamo di sto video Di 22 minuti e 30 Che sono 29 Vabbè Ok Prego Non c'è di che No Ok Lo so Aspetta raga Ho trovato un bug Non si sono ancora ragionati questi E ora si Bestia Bagonzi Ok 29 minuti Direi che è abbastanza Ciao a tutti Non ho ancora interrotto Ho sbagliato Ho fatto Ho cannato l'ordine Dovevo prima interrotto Cioè dovevo Ciao a tutti